Musica E ora cambiamo decisamente argomento. Un concerto di musica classica al Teatro Quirino. Un concerto che ha anche una finalità benefica e l'idea è di una famosa e rinomata scuola di musica romana. Musica La musica esce dagli schemi, fuori dai teatri lirici, fuori dai canoni classici per incontrare il pubblico e il mondo. L'Italian Brass Band, un'orchestra formata solo da ottoni, scelta estrema, può sedurre gli ascoltatori in un teatro di prosa come il Quirino e magari finanziare un progetto intitolato Una Primavera per il Sudafone. L'iniziativa con l'associazione Immaginarte è stata organizzata dalla scuola di musica Heimart, una delle scuole di musica classica romane più importanti tra le centinaia che ormai operano in Italia, favorendo così la diffusione della cultura musicale in tutto il paese. Musica Perché per studiare musica i conservatori non bastano più. Musica Musica